ciao a tutti buongiorno io sono simone montano un ricercatore dell'unità di milano bicocca del dipartimento di scienze dell'ambiente della terra è un ricercatore del mare center ovvero un centro di ricerca presente su un'isola maldiviana esattamente dove ci troviamo in questo momento alle maldive caratterizzate e conosciute per uno dei mari più splendidi presenti sul nostro pianeta e dalla presenza di un ecosistema particolarissimo e scogliere coralline oggi quindi faremo una breve escursione in questo mondo sottomarino cercando di raccontarvi uno degli aspetti meno conosciuti che sono le malattie dei coralli quindi vi illustrerò fondamentalmente cosa sono le malattie dei coralli quante se ne conoscono dove si trovano e come si possono ai più riconoscere tramite una semplicissima snorkelata bene eccoci qua e come vi dicevo iniziamo a parlare di un aspetto molto particolare delle scogliere coralline ovvero le malattie dei coralli allora le scogliere coralline sappiamo un po tutti essere tra gli ecosistemi più importanti del nostro pianeta soprattutto per quanto riguarda quelli marini questo soprattutto perché ospitano quelle che vengono definito delle più elevate biodiversità del nostro pianeta in pratica quasi il 25 se non di più per cento di tutte le specie marine viventi in qualche modo hanno una relazione intima stretta con queste scogliere coralline parliamo dai pesci coralli a qualsiasi altro invertebrato magari ancora da scoprire scogliere coralline appunto come parli sono sempre riconosciute per la bellezza dei propri colori colori dati da degli organismi dominanti noi comunemente chiamiamo coralli corallo è un termine un po comune identifica organismi diciamo molto imprendati estremamente imprendati tra di loro ma non ha una valida valenza tassonomica ci sono gruppi diversi che noi riconosciamo essere come coralli la caratteristica comune quella comunque di essere delle colonie di polipi che formano quello che noi comunemente riconosciamo come un individuo un corallo in realtà sono colonie di tanti piccoli animaletti con una caratteristica quasi unica nel mondo animale ovvero formano una simbiosi particolarissima con delle alghe unicellulari quindi all'interno di alcune cellule delle tessuti dei polipi che formano il mio corallo ci sono queste alghette che fanno la fotosintesi e in qualche modo nutrono il corallo ecco i pigmenti che queste alghette utilizzano per fare la fotosintesi non sono altro che i diciamo responsabili numero uno dei colori che noi osserviamo sott'acqua soprattutto in merito ai coralli che osserviamo tuttavia questi organismi vegetali fotosintetici unicellulari non sono l'unica componente che vive in estrella associazione con i coralli ma quello che si è in qualche modo sempre di più appreso negli ultimi anni è che il corallo in realtà forma tutta una serie di associazioni molto strette con altri microrganismi quali per esempio protozoi possono essere funghi ma soprattutto batteri batteri che vivono esattamente come quelli che ospitiamo diciamo quella famosissima flora intestinale che ci serve in qualche modo a star bene quotidianamente anche i coralli hanno dei batteri amici grazie al quale possono in qualche modo vivere e sopravvivere in maniera più migliore diciamo rispetto a se non gli avessero come potete vedere da questa slide il corallo può essere suddiviso in tre compartimenti fondamentalmente uno posteriore dove c'è scritto skeleton che è lo scheletro è un habitat fatto e finito poi abbiamo il tessuto che è fondamentalmente organizzato da strati cellulari che poi rispetto alla parte del epidermine vengono in qualche modo ricoperti da un ulteriore strato che viene considerato comunque un habitat a sé che si chiama mucus surface layer ovvero uno strato di muco superficiale una sostanza gelatinosa che ricopre il corallo giusto per intenderci ecco il muco il tessuto e lo scheletro sono tre habitat fondamentali per la colonizzazione dei batteri che vivono in simbiosi con questi coralli quindi i batteri si possono trovare in tre comparti distinti questi batteri si osservano in aggregati che noi chiamiamo coral associated microbial aggregates e nella maggior parte dei casi rappresentano organismi benevoli che vivono in qualche modo in una relazione mutualistica o da commensali sulla superficie o all'interno diciamo delle strutture del corallo a volte possono anche trasformarsi in pacote quando parliamo del sistema corallo quindi l'animale tutti gli organismi associati noi parliamo ci riferiamo a quello che comunemente è identificato come coral o l'obionte un olobionte perché è fatto da più organismi oggi è sempre più risaputo che diciamo l'insieme di questi batteri che creano queste associazioni strette con questi animali non rappresentano altro che la prima arma di difesa che il corallo ha contro l'attacco di patogeni esterni quindi fondamentalmente l'olobionte caratterizzato dall'animale e dai microorganismi è un super organismo ok che è in grado di resistere ad attacchi patogeni ok e i batteri in primo luogo sono la loro più importante arma di difesa ecco il corallo è un sistema molto più complicato di quello che possiamo descrivere in pochi minuti tuttavia è tanto complesso quanto fragile e oggi a seguito di una serie elevata numerosa e particolarmente preoccupante di minacce sia di origine antropica ovvero causata dell'uomo che di origine naturale sono sempre più in pericolo quindi noi fondamentalmente stiamo vivendo attraversando un periodo in cui un sistema originale caratterizzato da scogliere coralline in salute a seguito di stress di diversa natura tendenzialmente ne osserviamo la perdita dell'integrità e una qualità dell'ecosistema in generale sicuramente ridotta tra queste minacce noi abbiamo le ne abbiamo tantissime può essere diciamo naturali il cambiamento climatico avventi atmosferici anomali o eventi di predazione di animali che mangiano il corale che esplodono dal punto di vista numerico ma tra diciamo gli eventi naturali che maggiormente stanno contribuendo al declino di questo ecosistema sono le malattie dei coralli quindi malattie dei coralli esattamente un po come le possiamo immaginare un po come le nostre di malattie nel senso che i coralli come qualsiasi popolazione animale è soggetta a infezioni infestazioni da parte di patogeni e a malattie che ne possono promettere lo stesso di salute come vi dicevo oggi è considerato una delle minacce principali per l'integrità stessa di questo ecosistema se ci riferiamo più o meno alle definizioni di malattie di coralli conosciuti noi abbiamo due macro categorie le malattie abiotiche ovvero sono le malattie che sono causate da fattori diciamo più fisici come questa è la temperatura è il famosissimo coral bleaching ovvero quando le temperature si alzano al punto che le mie alghette diciamo si separano dal mio polipo del corallo che fondamentalmente diventa trasparente facendo vedere la parte bianca sottostante dello scheletro calcareo e se questa simbiosi non si ristabilisce tendenzialmente muore di panno tuttavia quando parliamo effettivamente di malattie dovremmo riferirci quasi sempre a quel di carattere biologico quindi le biotiche disise ovvero sono malattie causate da organismi viventi patogeni veri e propri microrganismi per la maggior parte e queste malattie sono quasi sempre causate da batteri funghi o protozoi ultimamente si osservano anche i virus ma è un qualcosa ancora sotto stretta indagine di ricercatori malattie che tendenzialmente a oggi si stanno osservando in maniera sempre più frequente ma che non è detto siano in realtà sopraggiunte di recente anzi è questo un esempio alcuni disegni datati oltre 200 anni fa di artisti tedeschi che riproducevano diciamo le scogliere coralline dell'epoca sembra aver già in qualche modo riportato la presenza di patologie in acqua quindi questo per dirvi che le malattie dei coralli probabilmente sono sempre esistite tuttavia a seguito dei cambiamenti climatici e dell'attività dell'uomo l'effetto l'intensità e la frequenza di queste malattie sta cambiando a oggi noi consideriamo i caraibi come la località hotspot per le malattie dei coralli ovvero è la regione in cui si conta il maggior numero di malattie a oggi conosciute infettare o infestare le scogliere colline e i nostri coralli per colate che non sia non sia un numero preciso ma indicativamente su una stima approssimativa di 40 patologie che determinano diciamo degli stati di salute dei compromessi dei coralli di questa quarantina quasi 30 35 sono confinate nell'area dei caraibi per questo viene considerata la località hotspot inoltre nei caraibi si sta fondamentalmente osservando la una maggiore frequenza con cui compaiono nuove malattie un evento della frequenza di eventi epizotiologi ovvero le epidemie degli animali ecco questi eventi sembrano stare aumentando di frequenza proprio nell'area caraibica soprattutto sempre in quest'area qua si osserva un rapido incremento della diffusione di queste malattie sia tra diverse regioni che tra diversi ospiti quindi un corallo che che non era malato tendenzialmente sembra che nei caraibi può diciamo diventarlo con una facilità maggiore rispetto altrove e si calcola che più dell'80 per cento dei coralli caraibici siano in qualche modo colpiti da almeno una malattia dei coralli che effettivamente tanto cosa succede nel resto del del mondo allora il resto del mondo che noi chiamiamo indopacifico attualmente conta meno malattie 5 6 7 malattie che colpiscono i coralli dell'indo pacifico e non sembrano ancora così aggressive come quelle dei caraibi tuttavia non si esclude che visto che le scogliere coralline dell'indo pacifico ospitano diciamo la più alta diversità di coralli del nostro pianeta che che diciamo includono circa il 91 per cento dei rif presenti sul nostro pianeta gli scienziati di tutto il mondo non escludono che in realtà questa elevata diversità di coralli non sia semplicemente anche ospitando un'elevata diversità di patogeni che non è ancora stata osservata perché la conformazione delle scogliere coralline di quest'area è tale per cui la maggior parte dei sistemi di riffe non sono facilmente accessibili e per questo ancora inesplorati come vi dicevo ho parlato fondamentalmente di un numero approssimativo di malattie dei coralli per un motivo semplicissimo allora ad oggi noi abbiamo fondamentalmente un buco una mancanza di conoscenza per la maggior parte delle malattie che colpiscono i coralli perché perché come vi dicevo i riffe non sono tutti vicini perché in acqua non si va tutti i giorni perché un corallo non è in grado di effettivamente mostrare segni così particolari o perché noi non abbiamo le tecnologie per indagare su tutte le malattie dei coralli che in qualche modo a oggi potrebbero essere presenti in acqua questo ha fatto sì che la maggior parte delle descrizioni delle malattie dei coralli sia stata fatta tramite la descrizione grossolana della lesione macroscopica che si può trovare sulla colonia e questo ovviamente ha generato quello che viene chiamato name confusion perché a volte malattie diverse causate da lesioni simili sono state chiamate nello stesso modo oppure viceversa malattie uguali che fondamentalmente però causano in aree geografiche differente lesioni diverse sono state in qualche modo chiamate in maniera differente e così questo ha creato e sta creando un po' una confusione generale su quello che è il reale problema delle malattie dei coralli nei riffe di tutto il mondo e in tutto questo poi mancano tutta una serie di informazioni di carattere epidemiologico epizoteologico nel senso che noi non sappiamo quanti sono magari soprattutto quali sono i patogeni che causano le malattie qual è lo range di queste malattie oppure fondamentalmente la distribuzione di queste malattie la prevalenza l'incidenza abbiamo tutta una serie di informazioni che che mancano che non ci permettono di studiare o di avere un quadro ancora ideale di questa minaccia e ancora meno di prendere le dovute precauzioni come facciamo a riconoscere che siamo di fronte a una malattia dei coralli? Allora innanzitutto di solito la lesione presente sul corallo è il tipico segnale della malattia del corallo ovvero le malattie dei coralli nella maggior parte dei casi mostrano delle lesioni caratteristiche e queste lesioni sono fondamentalmente uniche o comunque inequivocabilmente riconducibili alla malattia del corallo quando fondamentalmente siamo di fronte a un segnale che ci indica la possibile presenza di una malattia? Allora innanzitutto quando fondamentalmente noi abbiamo un corallo in cui si vede la mia lesione bianca in cui chiaramente il tessuto non è presente e lo scheletro del mio corallo è intatto come nell'immagine numero 1 oppure abbiamo delle crescite anomale del tessuto e dello scheletro del corallo quasi come dei tumori come nell'immagine 2 oppure il corallo mostra delle pigmentazioni anomale cioè delle porzioni di colonia colorati in maniera anomala che in questo caso probabilmente indica la presenza di una patologia oppure addirittura in alcuni casi specifici la presenza di materiale esterno a caratterizzare il fronte della mia infezione a dividere la parte sana dalla parte malata e in questo caso come nell'immagine numero 4 tuttavia come vi dicevo il corallo non è in grado di manifestare diciamo in maniera plateale il suo problema non dire mai ho male a una ramificazione o mi fa male la parte posteriore della colonia no, hanno fondamentalmente sempre solo un modo per mostrare le proprie disfunzioni che è quello del tessuto che muore e del colore della parte della lesione che cambia a questo però bisogna fare riferimento che in acqua naturalmente ci sono una serie di fenomeni di disturbo che possono causare diciamo delle lesioni che apparentemente potrebbero confonderci e farci scambiare un corallo malato quando non lo è un esempio ci sono molti pesci che si nutrono del corallo e causano delle lesioni specifiche come nell'immagine numero 1 cioè in questo caso lasciano delle impronte se uno fondamentalmente non dovesse conoscere la tipologia di organismo che può causare questo danno gli verrebbe da pensare a una malattia eppure in questo caso come in molti altri casi di predazione c'è fondamentalmente un segnale di andare a vedere per escludere la presenza di una malattia ovvero la presenza dello scheletro danneggiato perché una malattia causata da un microorganismo non va a intaccare lo scheletro mentre se vedete nell'immagine numero 1 ma ancora di più nell'immagine numero 2 l'azione predatoria del mio pesce ha in qualche modo scalfito la parte superficiale della mia colonia del corallo mostrando sì una lesione bianca ma che non è riconducibile in maniera assoluta alla presenza di una malattia causata da un patogeno microscopico dopo di questo in realtà potremmo fondamentalmente avere lesioni apparentemente molto simili a quelle malattie causate da atti di predazione come nell'immagine numero 3 che è un atto di predazione dato da un mollusco gasteropode chiamato drupella oppure nell'immagine numero 4 dato dall'azione predatoria di un'echinoderma, una stella marina una stella marina di questa dimensione che si chiama acantaster planchi e che si mangia il corallo ecco come faccio io quando vedo delle lesioni simili a escludere che sia una malattia e dimostrare che è la presenza fondamentalmente di un predatore non è semplicissimo ma si può fare in due modi pensate a queste due semplici accortezze sia la drupella che è un mollusco, una lomattina di mare che la stella marina la cantaster planchi non si muovono così velocemente non sono dei pesci che in un secondo schizzano via quindi nel momento in cui dovessimo vedere delle lesioni bianche un modo per escludere la presenza di una malattia è andare a cercare il possibile predatore che ha causato quella lesione bianca soprattutto nel caso delle acantaster le stelle che vi ricordo marina ricordo essere grossi oltre 30-40 cm di diametro quando si nutrono su uno dei generi preferiti come l'acropora e in questo caso colonie di acropora tabulari come nell'immagine 4 il loro peso eccessivo tende a smerlare a rompere le parti terminali della mia colonia allora a quel punto lì il mio scheletro è rotto ho già un segnale non mi resta che andare a vedere la cantaster planchi oppure abbiamo altri due segnali un po' meno facili sempre da riconoscere sottili ma che in qualche modo identificano un problema che non è riconducibile a una malattia abbiamo la sovracrescita delle alghe oppure la sedimentazione come nell'immagine 6 ovvero un eccessivo accumulo di sedimento sul corallo che lo stressa perché non può effettuare la fotosintesi o in qualche modo nutrirsi da solo ecco che questi fattori fondamentalmente sono dei fattori che in qualche modo creano uno stress al corallo creano dei danni al corallo ma non sono riconducibili a malattie andiamo a vedere qualche altro fenomeno che in un bel modo possono confondere in un primo riconoscimento allora innanzitutto abbiamo il coral bleaching immagine numero 7 il corallo è bianco ma qual è la differenza tra diciamo il coral bleaching e una malattia che causa una lesione di tipo bianco la differenza principale è che durante il coral bleaching il corallo che appare bianco ha comunque il tessuto che in qualche modo è trasparente e mostra lo scheletro calcareo sottostante ma il tessuto è ancora presente quindi il corallo è fondamentalmente vivo non sta bene ma è vivo e quindi non è riconducibile alla presenza di alcun patogeno oppure abbiamo stati infiammatori in questo caso nell'immagine 8 perché come qualsiasi altro animale la rottura dello scheletro atti di predazione degli animali causa uno stress al tessuto che può infiammarsi infiammandosi e perché magari deve ricrescere oppure perché magari in qualche modo è stato danneggiato può mostrare delle pigmentazioni anomale anche in questo caso non riconducibili alla presenza di un patogeno ma solo a stati infiammatori quindi tendenzialmente non è considerata come una malattia oppure abbiamo delle situazioni ancora strane come la Trematodiasis che vedete nell'immagine 9 che è un'infestazione temporanea da parte di Trematodi solo e solamente per quanto riguarda coralli del genere Porites oppure i gold crabs che nell'immagine 10 lo si vede benissimo non sono altro che delle deformazioni dello scheletro presenti a causa della colonizzazione del corallo da parte di alcuni granchietti oveglio questi particolari granchi si incistano fondamentalmente sul corallo che gli cresce sopra e forma queste strutture più o meno sferiche anomale sulla superficie del corallo che apparentemente a un primo impatto potrebbero anche far supporre la presenza di una malattia o di un tumore ma che in realtà hanno una spiegazione molto semplice ovvero la presenza di un animale all'interno che ha creato queste strutture allora come faccio io una volta che ho escluso tutte queste possibilità definire se il mio corallo che vedo in qualche modo sofferente è malato o non malato allora innanzitutto posso caratterizzare la mia lesione e lo posso fare in diversi modi soprattutto in maniera più rapida è quella di in qualche modo individuare la lesione e descriverla e quindi la possiamo descrivere in base alla sua distribuzione sulla colonia come potete vedere in altra destra quindi se è presente solitamente in un punto se la lesione è caratterizzata da più punti sulla mia colonia o se in realtà la mia lesione è diffusa e prende quasi tutta la colonia potremmo in qualche modo studiarne la localizzazione quindi se è presente nella parte centrale nella parte apicale nella parte posteriore basale eccetera eccetera oppure cosa importante io posso andare a vedere se lo riconosco i bordi della mia lesione se sono distinti quindi netti indistinti sfumati oppure nella maggior parte dei casi se fanno una sorta di banda ok? allora a quel punto lì io posso riconoscere la mia malattia altre due caratteristiche da andare a osservare sono i tassi di progressione della mia malattia e la presenza di colorazioni anove come posso vedere i tassi di progressione? questo magari lo si può fare un po' nel tempo però vi dovete immaginare che qualsiasi lesione appena causata sul corallo è bianca ma rimane bianca per poche ore perché è poi sempre colonizzata dalle alghe se, e dico se, dovesse essere una lesione causata da un predatore o da qualsiasi altro fenomeno che non è una malattia questa lesione non dovrebbe progredire e nel giro di pochi giorni assumere un colore omogeneo perché colonizzato in maniera totale dalle alghe al contrario se fossimo di fronte a una malattia noi andremo in qualche modo a osservare un pattern di questo tipo ovvero noi partiremmo come vedete in altri quadratini marroni da una colonia tutta colorata uguale sana che in qualche modo viene intaccata da un patogeno si ammala e mostra la mia parte bianca dello scheletro ok? se io nel tempo vado a osservare la mia colonia mi accorgerò ed è utile per capire il fatto che possa essere malata che fondamentalmente questa parte bianca si sposta e che rappresenta il fronte della mia infezione dove il marroncino che è il tessuto viene sempre a diminuire nel tempo T1, T2 e T3 vuol dire che in qualche modo il mio tessuto diminuisce il mio patogeno consuma il tessuto nel tempo mentre nella parte diciamo morta prima del fronte dell'infezione osservo una successione nella colonizzazione da parte delle alghe e quindi cosa succede? vedrò sempre una sfumatura di colori che determina la presenza o la facile individuazione del fronte della mia malattia con la parte bianca che rappresenta il fronte vero e proprio dell'infezione che separa un tessuto vivo il marroncino da una parte morta a volte morta in tempi diversi che può avere una gradazione dal verdino al verdognilo fino anche al marroncino nero per le parti più morte da più tempo andiamo a vedere adesso per lo meno le malattie quelle che possono essere le malattie più facilmente riconoscibili a tutti con una semplice snorkelata come vi avevo promesso la prima la checchia si chiama skeleton eroding band è stata scoperta vent'anni fa nel 2000 è stata una delle prime malattie scoperte nell'indo pacifico che colpisce per la maggior parte il genere acrobora diffusissimo in tutto l'indo pacifico ed è caratterizzata da che cosa? da una banda nera come potete vedere nell'immagine centrale in cui si separa diciamo la parte viva dalla parte sottostante ormai già morta come potete vedere nell'immagine invece a destra questa parte nera è costituita da qualcosa e quel qualcosa è un cluster di ciliati sessili protozoi che sono stati identificati appartenere a una specie in particolare l'alufulliculina corallase è un protozoo con una piccola sacca che si insedia nello scheletro del corallo se cerni degli acidi che erodono il mio corallo da qui scheletro erodi in bed le bande che costruiscono questa malattia che separano la parte viva dalla parte morta possono avere diciamo uno spessore di pochi millimetri a diversi centimetri e i tassi di progressione di questa malattia sono nell'ordine di pochi centimetri al mese poi abbiamo la brown band disease in questo caso è anche in questo caso il nome identifica una lesigone specifica ovvero la presenza di una banda marrone che va a separare la parte morta dalla parte viva anche in questo caso è presente in maniera molto frequente sul genere del tipo acropora in questo caso una acropora ramificata e come per la scheletro erodimente anche in questo caso noi possiamo riconoscere un fronte dell'infestazione casato e riconoscibile da una banda in questo caso i tassi di progressione sono molto più elevati parliamo di decine di centimetri al giorno volendo e la banda un po' come la scheletro erodimente anche in questo caso è formata da ciliati in questo caso sono dei ciliati mobili appartenente alla specie filastere bomense che consumano letteralmente il corale fanno anche di più in realtà questa colorazione marrone della banda e dei ciliati ovviamente è data da una motivazione molto chiara semplice ma affascinante ovvero questi ciliati mobili sono in grado di mantenere all'interno del proprio corpo fondamentalmente le zoxantelle le micro alghe che vivono in simbiosi col corallo funzionali e vive per sfruttare la capacità fotosintentica e per questo mantengono un po' il colore del corallo questo è un esempio di quanto può essere rapido diciamo il consumo di questi ciliati e del tessuto è accelerato e praticamente in meno di un'ora sono in grado di consumare un paio di centimetri di corallo questo è per farvi capire come possono essere aggressive queste malattie poi abbiamo la White Syndrome in questo caso colpisce sempre il genere acrobora sembra fondamentalmente una malattia diffusissima di cui non si conosce bene ancora il patogeno ed è caratterizzata dalla presenza di un come si può dire una banda diciamo più o meno chiara a separare il tessuto vivo dal tessuto morto in questo caso la caratteristica chiave per il riconoscimento è la presenza di tessuto in necrosi proprio a ridosso del fronte dell'infezione l'identificazione di questa malattia ovviamente richiede la presenza di uno stereomicroscopio per individuare la presenza di tessuto in necrosi in maniera simile abbiamo la Ulcerative White Spot Disease una malattia molto strana colpisce il genere poritis identificata nelle Filippine del 2003 e caratterizzata dalla presenza di lesioni multiple di dimensioni di pochi centimetri delle ulcere che si dispongono in maniera multifocale sulla mia colonia questi bottoni di perdita di tessuto possono fondamentalmente unirsi estendendo la lesione fino a portare tendenzialmente la morte della colonia il patogeno è stato più o meno identificato di recente e comunque sembra appartenere a un batterio del genere Vibrio infine abbiamo un'altra malattia molto facile da identificare dove il nome della malattia appunto descrive ancor meglio la lesione che ne può essere in qualche modo identificata si chiama Black Band Disease questo perché noi abbiamo una banda nera che separa diciamo la parte morta dalla parte viva come potete vedere dalle immagini in questo caso è diffusa nei riff di tutto il mondo è una delle poche malattie che si trova sia nei Caraibi che nell'Indo-Pacifico la caratteristica chiave di questa banda è che è formata da un consorzio di microorganismi ovvero non un singolo patogeno ma tutta una serie di patogeni la cui componente dominante è caratterizzata, costituita da cernobacteri quindi proparioti fotosintetici fondamentalmente questa malattia è particolarmente deleteria perché non si presenta con percentuali molto elevate nel riff non colpisce il 100% dei coralli tuttavia al contrario è in grado di persistere per decine di anni e in questo caso anche se le prevalenze di questa malattia sono basse in grado di creare un danno a lungo termine alla struttura della scogliera corallina e la diversità della scogliera corallina quello che abbiamo osservato noi è che le velocità di progressione di questa malattia sono diversissime noi possiamo avere velocità di progressione di una malattia di pochi millimetri a settimana oppure come si è serbato sulla specie passapocola aimeana di diversi centimetri al giorno che appunto sono fatte ancora da studiare ma determinano la scomparsa di colonia e di corallo nel giro di veramente pochissimo tempo una malattia con un nome simile ma in realtà caratterizzata da un organismo completamente diverso è la black disease in questo caso la black disease non è altro che una malattia è stata da una spugna chiamata terpios oscinota che è in grado di crescere sul corallo uccidendolo questa è una cianobacterial sponge perché il sottile diciamo stratrello nero che caratterizza la spugna è fondamentalmente un mix tra appunto l'animale, la spugna e dei cianobatteri anche in questo caso in grado di determinare la mortalità della maggior parte dei coloni tra le più recenti abbiamo la pulites white patch syndrome che fondamentalmente è molto difficile da riconoscere si trova appunto nell'indo pacifico ed è caratterizzata da delle patch molto variabili in termini di dimensioni, colori e forma che colpiscono per la maggior parte o quasi esclusivamente colonie del genere pulites il patogeno identificato per lo meno nel 2015 sembra essere un altro batterio in questo caso vibrio tobayashi infine abbiamo le growth anomali, i tumori che non sono altro che delle crescite anomale del tessuto e dello scheletro ovvero il tessuto in qualche modo si presenta con meno zoxatelli, meno pigmenti mentre lo scheletro in realtà si presenta meno denso la morfologia dei coralliti cambia in maniera anomala addirittura neanche si manifesta e le cause dei tumori non sono ancora ben chiare potrebbero essere dati da dei funghi, potrebbero essere dati dai batteri e per qualcuno, soprattutto anche su alcuni generi dei coralli sembrano essere delle forme di senescenza del corallo ovvero il corallo invecchia e come qualsiasi animale tende a degenerare quali sono le cause di queste malattie? perché ne dobbiamo in qualche modo studiare gli andamenti per quanto riguarda le scogliere coralline? allora la causa principale è la morte la morte del corallo per questo a oggi fondamentalmente c'è bisogno di aumentare perché sono gli sforzi di ricerca sulle malattie dei coralli che corpiscono le scogliere coralline di tutto il mondo questo inoltre perché se non fondamentalmente mortali in realtà sono in grado di ridurre la fertilità della colonia la capacità di crescere e di cacificare fondamentalmente con il risultato finale di un cambiamento nella struttura delle comunità coralline perché vengono a mancare i più suscettibili e soprattutto una riduzione della diversità delle scogliere coralline quindi di per sé la diversità di tutti gli organismi che grazie ai coralli in realtà vivono nelle scogliere coralline a oggi purtroppo dei cambi di comunità da coralli ad alghe per la scomparsa proprio dei coralli a seguito delle malattie si è già verificato quindi un allarme, un canello d'allarme che ci deve far riflettere questo in giorni in cui il cambiamento climatico sembra fondamentalmente favorire la diffusione delle malattie perché tendenzialmente sembra in qualche modo influenzare la capacità del corallo di rispondere al patogeno le temperature elevate delle acque superficiali sembrano in qualche modo favorire la crescita e la virulenza degli organismi patogeni e soprattutto sempre che i tassi di trasmissione tra le malattie cioè tra gli organismi malati o specie differenti di corallo che possono essere malati sembrano stare sensibilmente aumentando quindi a oggi sembra che lo studio fondamentalmente delle caratteristiche chiave di queste malattie quindi lo strength, la distribuzione e le prevalenze sia di fondamentale importanza per poter studiare le malattie e cercare in qualche modo di attuare quelle che sono delle strategie di conservazione efficaci per la salvaguardia di questo ecosistema Allora la lezione è finita io spero che sia stato tutto sufficientemente chiaro e che vi sia anche piaciuta per qualsiasi cosa ovviamente siete liberi di scrivermi a simone.montano.unimib.it e chiedermi qualsiasi vostro dubbio e chiarimento altrimenti non mi resta che salutarvi e rimandarvi alla prossima puntata Ciao, dalle Maldive